Amici, il vlog parte da qui, da dove inizia tutto, veramente, dal mio armadio, quindi faccio la borsa per partire e il vestito. Il vestito è questo. Ci vedete che brilla? Con questo. Con questo qua. Dopo. Pronti? Stiamo andando a fare questo mini show piano solo a Bologna. Non era nell'elenco delle date su internet perché è veramente mini, è un'ospitata veloce che faccio all'Unipol Arena di Bologna. Subito prima della partita di Palavolo che sarà domani, che è il 23 febbraio, giusto? Sì, il 23 febbraio. Quindi noi stasera facciamo le prove, farò le prove con i fonici, tutta la situazione. E poi domani invece c'è questo spettacolo che sarà, spettacolo molto breve, che sarà intorno alle Mianodelle Vettorale 17. Perciò, perché ci sarà, ci vedremo lì, all'Unipol Arena di Bologna. Arrivati all'hotel. Ok. Un a Un a Un a Un a Un a Amici ci siamo quasi, adesso metto giusto gli near, gli near nelle orecchie, sto quasi a posto, chiami da sole e ci siamo. Grazie! 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 Grandissima apprensa per Meti Lee! Andava bene? Si è sentito qualcosa? Carriera, carriera! Oh, si è sentito, si capiva, si capiva, confermi, guarda, per il blog si capiva, si capiva bene! Grazie!